E' una tentazione che viene, cioè se carica la gente gli parla dalla vita. Allora gli ho detto, ho capito, ma il problema è di una serie che punta troppo sulla verticalità. La verticalità, cioè significa che ogni puntata è verticale. Tu ti puoi vedere una puntata di Steve Austin, perderne tre, Steve Austin è l'uomo dai 6 milioni di dollari, perderne tre e poi ne vedi l'altra e te la godi. Quando vedo un prete in automobile, per il rosso aspettare, io provo un dispiacere. I soggetti che vinceranno noi pure ci prendiamo, ma sono un po' basici, un po' da ritardato mentale. Perché lui dice tutta una serie di cose e poi dopo alla fine dice, ma si sbagliava di grosso. Un prete in automobile, una ruota a cambiare, io provo un dispiacere. Perché lui pensa grandi cose fatte di eternità. Faccio quello che volesse. Potrebbe essere anche la mafia russa, insomma, i cinghiali radioattivi. E' entrato uno nella regione e ha sparato a due donne e poi si è sparato. Quando vedo un prete in automobile, una multa a pagare, io provo un dispiacere. Sequestrata un cannone che sparava l'attina di Mariana dal Messico all'Usa. Mi piacerebbe che ci fosse un episodio girato a Kiev. Dopo tutti i rapporti con la famiglia, a un certo punto decide di riavvicinarsi, però nel frattempo anche lei ha una vita parallela. Però secondo me è molto difficile fare queste storie qua. Sì, insomma, poi alle telefonate di lui lei non risponde come una... che ha un'altra vita. Signorina Lucia. Signorina Lucia. Signorina Lucia. Invece da una ragazzina cortrici come a star cinghiale. Quando vedo un prete in automobile, una ruota a cambiare, io provo un dispiacere. Perché lui pensa grandi cose fatte di eternità. I quarantenni decerebrati, allora non gliene segue un cazzo di essere partigiani. Quando capiscono di avergli quello che gli è successo, cercano di sfruttare magari all'inizio le skill, cioè le qualità che hanno ottenuto per i propri interessi. Il fascista con i genitori fascisti con la storia fascista, c'è il comunista con i genitori operai. Adesso vediamo tutto. Non c'è un po' il rischio, dico così, è clichettino. Attraversare la realtà e poi decidere se ci fa comodo o no. Brava Giacomo. Quando vedo un prete in automobile, una multa a pagare, io provo un dispiacere. E però io sono convinto che è proprio quando il tutto diventa impossibile e poi uno riesce a galleggiare. Questo gruppo qua ha creato due situazioni che hanno un denominatore comune nello stile ed è stranissimo. E non solo io perché non è il mio stile. Vedere un po' se riesci a entrare a gamba tesa su te stessa e vedere, dopo quello che ci siamo detti, dove potrebbe esserci il difetto qua. Grazie per quel voto. Grazie per aver guardato.